Musica Muore schiacciato dal trattore, la vittima è un diciottenne di Lucca Sicula che è stato travolto dal mezzo sul quale stava lavorando in un appezzamento di proprietà della sua famiglia. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque soggetti arrestati nell'operazione antimafia denominata Nuova Cupola. Conferenza stampa questa mattina alla provincia regionale di Agrigento del gruppo consigliare del PDL sull'approvazione della mozione RC Auto e sul bilancio di previsione 2012. Polemica sul fronteggessa da una parte ai cittadini che hanno ricevuto bollette salate, dall'altra agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti senza stipendio da due mesi e che annunciano un nuovo sciopero. Proseguono i disagi per i commercianti della via Pirandello per il protrarsi dei lavori della zona. Sulla questione presenta un'interrogazione il consigliere Alfonso Mirotta. Tutto pronto a Milena per l'ottavo raduno bandistico di domani in città. Diversi gli appuntamenti in programma. Guardiale e benvenuto gentili telespettatori all'informazione di Agrigento TV. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Muore schiacciato dal trattore. La vittima è un diciottenne di Lucca Sicula che è stato travolto dal mezzo sul quale stava lavorando in un appezzamento di proprietà della sua famiglia. Nino Ravanà. È rimasto schiacciato dal trattore mentre era impegnata a spegnere insieme ad altri agricoltori della zona un incendio divampato nelle campagne tra Bivone e Palazzo Adriano. Vittima del tragico incidente è un diciottenne Giovanni Maurello di Lucca Sicula. Da una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima aveva da poco terminato di agganciare una cisterna d'acqua al suo trattore. Forse per la forte pendenza del tratto di campagna e un possibile errore di manovra il mezzo agricolo si è ribaltato con il giovane che è rimasto schiacciato. Sono stati i compagni della ragazza a dare l'allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Lucca Sicula di Palazzo Adriano e un'ambulanza. Quando Giovanni Maurello è stato liberato respirava ancora e è deceduto sul mezzo di soccorso prima dell'arrivo all'ospedale di Ribera. Vani sono risultati tentativi effettuati dai sanitari per cercare di rianimarlo. Troppo gravi le lesioni interne causate dallo schiacciamento. Sul terribile incidente la procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dei fatti. Come primo passo il magistrato titolare del fascicolo ha disposto il sequestro della salma e del mezzo agricolo. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque soggetti arrestati nell'operazione antimafia denominata Nuova Cupola. Nino Ravana È stata per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza che il Tribunale del Riesame di Palermo ha disposto l'immediata scarcerazione di sei intagati coinvolti nell'inchiesta antimafia Nuova Cupola. Era l'alba del 27 giugno scorso quando una cinquantina tra presunti boss e picciotti di Cosa Nostra vennero fermati nel corso di un maxi blitz dei poliziotti, del commissarato di Porto Empedocle e degli agenti della scuola mobile di Agrigento. A poco più di un mese di distanza sono tornati in libertà Giorgio Traina, 54 anni di Porto Empedocle Francesco Paolo Cioffi, 36 anni di Agrigento Stefano Mancione, 49 anni di Raffadali Alfonso Tutto Lomonto, 37 anni di Porto Empedocle Filippo Azzarello, 48 anni di Ventimiglia di Sicilia Ed Ettore Allegro, 49 anni di Caltanissetta Per loro i giudici del Tribunale del Riesame hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo Michielalaimo Dei sei personaggi di spicco è ritenuto l'empedoclino Giorgio Traina chiamata a rispondere, così come gli altri indagati di vari reati tra i quali l'intestazione fittizia di beni e riciclaggio con l'aggravante di aver egevolato Cosa Nostra Secondo le indagini coordinate dalla DDA Traina e Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlantino avrebbero imposto un monopolio nella fornitura di calcestruzzo e altri materiali tramite alcune ditta loro riconducibili Per eliminare le imprese concorrenti e convincerle a rifiutare gli ordini la cosca empedoclina ricorreva a danneggiamenti e attentati Il cemento doveva essere acquistato soltanto presso gli impianti appartenenti ai bossi locali e nei giorni scorsi queste ditte sono state sequestrate dagli uomini della scuola mobile di Agrigento Tre rumeni sono stati arrestati dai carabinieri che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sciacca su richiesta della locale procura I manette Ioan Flori Cretu, 27 anni, abitante a Villa Franca Siculo ed una coppia di coniugi Bela Ioan Muresan, 26 anni e Susanna Muresan, 26 anni, residenti ad Alessandria della Rocca Un quarto indagato di Ribele è stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla tenenza dei carabinieri L'inchiesta, denominata Afrodite, è scaturita dalle rivelazioni di una 21enne che nell'agosto del 2011 ha denunciato ai militari di essere stata violentata da Florin Cretu e successivamente indotta dallo stesso a prostituirsi I coniugi Muresan si sarebbero occupati di procacciare clienti Il riberese è accusato solo di favoreggiamento della prostituzione limitandosi a trovare clienti nel centro crispino in cambio di rapporti sessuali gratuiti consumati con la prostituta Il gesto di un lido balneare di Lampedusa è stato denunciato per i reati di usurpazione di terreno danneggiamento e violazione del codice della navigazione Le indagini dei carabinieri e della capitaneria di Porto dell'Isolo hanno permesso di accertare che l'uomo senza autorizzazione avrebbe livellato un terreno di oltre 500 metri quadrati in località Mare Morto collocando 35 ombrelloni e 74 lettini da spiaggia L'area e i materiali sono stati posti sotto sequestro giudiziario Gesto intimidatorio, atto vandalico l'ipotesi al vaglio della polizia in merito all'incendio del portone legno della biblioteca comunale di Palma di Montechiaro Il tempestivo intervento sul posto dei poliziotti del locale commissariato dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si potessero estendere all'interno della struttura Passiamo alla politica Conferenza stampa questa mattina alla provincia regionale di Agrigento del gruppo consigliare del PDL sull'approvazione della mozione RC Auto e sul bilancio di previsione 2012 è andato per noi tutto frequente Alla provincia è polemica tra il PDL e il presidente d'Orsi il tutto è venuto fuori dall'ultima seduta del Consiglio che ha approvato la mozione del consigliere Lazzano e dei suoi colleghi di partito che chiede all'amministrazione di revocare l'aumento della RC Auto Ma c'è anche l'aspetto politico La mozione è stata infatti approvata con 14 voti favorevoli e 12 astenuti Per il PDL pertanto è finita l'era d'Orsi che ormai non ha più maggioranza Noi riteniamo che si deve amministrare una provincia con serietà, con equità cercando di mettere le mani nelle tasche dei cittadini il meno possibile E allora il PDL ritiene e riteneva che prima di aumentare le tasse prima di tartassare i cittadini in un momento di grave crisi economica e sociale che sta vivendo il nostro paese bisogna tagliare i dirigenti, bisogna tagliare gli assessori bisogna tagliare le spese improduttive Di fatto si è sancito l'altra sera alla fine dell'era d'Orsi perché Dorsi nonostante i repentini cambi continui di assessore non riesce ad amalgamare la sua stessa maggioranza formata MPA, PD e qualche consigliere cifico che addirittura propone e gli viene poi assegnato l'assessore questi l'altra sera si sono astenuti nella mozione nostra quindi non riconoscendo di fatto l'operato fatto dall'aggiunta Dorsi e dal presidente stesso Alla conferenza stampera presente anche il segretario provinciale del PDL Nino Bosco che invita il presidente Dorsi a seguire le orme del leader del suo partito rassegnando le dimissioni Il presidente Dorsi è identico al presidente Lombardo entrambi ribaltonisti, entrambi hanno tradito il mandato popolare soprattutto entrambi hanno bloccato l'economia di quella Sicilia della provincia non conseguendo nessun risultato sotto l'aspetto amministrativo non mi pare che nessuna di due possa fare delle relazioni di consuntivo positive rispetto ai territori che hanno amministrato Farebbe bene Dorsi a fare quello che ha fatto Lombardo andandoci a dare le dimissioni e a fare sì che ad ottobre oltre che per le regionali magari si possa votare anche per le provinciali qui ad Agrigento Ma il presidente Dorsi annunciando di non fare passi indietro sull'aumento della RC auto necessaria per chiudere il bilancio contraattacca alle accuse mosse dal PDL Viene da ridere perché loro chiedono le dimissioni perché sostengono che io non abbia più la maggioranza mi pare di avere capito e beh io credo che la maggioranza non ce l'abbiano loro perché già nel 2010 io non avevo più il loro apporto e quindi potevano costituirsi una maggioranza tale da farmi la mozione spiducia Evidentemente non hanno questi numeri e non riescono a farmi la mozione spiducia proprio perché sono in mancanza della maggioranza E poi chi sono questi del PDL? Andiamo a vederli, andiamo a valutarli E' gente che mi ha lasciato in eredità 130 milioni di euro di debiti e gente che mi ha messo nelle condizioni di mettere qui a remare tutti quanti per risanare il debito pubblico che si era creato e allora noi con serietà ci siamo riusciti con serietà ci siamo adoperati in questo senso e continuano a fare soltanto populismo Clima sempre più teso pertanto riacceso indubbiamente dalle imminenti elezioni regionali Ci spostiamo a Naro due nuovi assessori nominati dal sindaco Pippo Morello hanno prestato il giuramento diritto e sono stati immessi nelle loro funzioni Si tratta di Elisa Virone, 30 anni, è la prima esperienza politico-amministrativa e di Peppe Isaito che nel passato è stato assessore alla solidarietà e ai servizi sociali I neoassessori vanno così a completare la squadra della giunta presieduta dal sindaco Pippo Morello e composta da Ignazio Terranova che svolge anche le funzioni di vice sindaco e da Angelo Gallo La nomina di Peppe Isaito che è anche consigliere comunale quindi ricoprirà la doppia carica è stata resa possibile dalla norma regionale entrata in vigore ad inizio anno che consente ai consiglieri comunali di essere nominati assessori sino alla concorrenza della metà dei componenti la giunta Le deleghe e vari rami dell'amministrazione e i neoassessori verranno conferite dal sindaco nei prossimi giorni Nelle prossime ore invierò una richiesta ufficiale per includere il comune di Menfi nella circoscrizione della provincia di Trapani Contestualmente avanzo la mia volontà di nominare un menfitano assessore della giunta provinciale A dirlo è stato il presidente della provincia Mimmo Turano dopo la notizia dei giorni scorsi secondo cui l'amministrazione da lui guidata rischierebbe di essere unificata con quella della provincia di Agrigento per la mancanza di appena 40 km quadrati di superficie per rientrare nei limiti previsti dalla legge Per il sindaco di Menfi, Michele Botta si tratta di una proposta seria e verrà valutata insieme a tutte le forze politiche alla cittadinanza Voltiamo pagina polemica sul fronte da una parte i cittadini che hanno ricevuto bollette salate e dall'altra gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti senza stipendio da due mesi e che annunciano un nuovo sciopero Vediamo Polemica tra gli egrigentini per l'arrivo delle salate bollette sui rifiuti che hanno suscitato un generale malcontento Inevitabili dunque le lunghe file negli sportelli competenti in materia da parte dei cittadini che intendono capire il perché dell'aumento In merito alle lamentele della gente interviene a dare spiegazioni il liquidatore di GESA Teresa Restivo che spiega che le bollette sono state necessariamente adeguate alla normativa vigente e sulle lunghe file di attesa dei cittadini dietro gli sportelli il liquidatore mira a chiarire che questi disagi rappresentano un classico durante il periodo di agosto perché molto del personale è in ferie ma nel pomeriggio rassicura l'arrestivo le file sono ridotte Alle polemiche della gente sulle bollette sempre più care si associano le lamentele dei netturbini che sono senza stipendio da due mesi e che proclamano il prossimo sciopero per il 18 e il 19 agosto Continua il calvario dei lavoratori che a vario titolo sono impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti nel silenzio assoluto della politica non curante dei gravissimi disagi di oltre migliaio di famiglie agrigentine Sono queste le parole del segretario generale della FPCGL Alfonso Buscemi che punta il dito contro quanti hanno responsabilità di governo e da vario titolo contribuiscono al calvario dei netturbini che da troppi anni ormai non ricevono il pagamento dei propri emolumenti in maniera puntuale Quella degli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti della GESA sta divenendo davvero una storia infinita e quel che è peggio è che ancora non si vede alcuno spiraio di luce Ci fermiamo per qualche istante arriva per noi la pubblicità Riprenderemo l'informazione dai lavori di Via Pirandello ma altre notizie ci attendono A tra poco Il Teatro Valle dei Templi apre il cartellone estivo 2012 in una nuova location sulla via panoramica dei Templi Nel suggestivo scenario della Valle dei Templi 4 agosto Caparezza per un'esclusiva data unica in Sicilia Il 16 agosto con Vinicio Caposela e altre novità per un'estate senza fine Info e prevendite Sport Village 0922 437474 e biglietteria Il Sestante 0922 553350 per acquisto online www.ilsestante.net A GTV ti offre l'opportunità di scegliere il tipo di programma che vuoi seguire con ben 6 canali tematici sul digitale terrestre Digita sul telecomando il numero 96 per AGTV Altri canali sono visibili sul tuo televisore A GTV 24, canale 634, solo informazione, 24 ore su 24 A GTV Police, politica e territorio A GTV Junior, intrattenimento, bimbi e ragazzi A GTV Music Sport, tanta musica e informazione sportiva A GTV Vetrine, tutto per lo shopping da casa Ovunque tu sia, collegati al sito www.agrigendotv.it Potrai seguire in streaming video tutti i nostri programmi in tempo reale o rivedere il tuo programma preferito ed essere informato sulle ultime notizie Per maggiori informazioni info 0922 596722 e mail agrigendotv.it Buona visione! La materia lascia spazio alle emozioni Costanza ceramiche, nuova apertura in via Leonardo Sciascia 47, villaggio Mosè, Agrigento Costanza ceramiche, ceramiche and design E' una grande campagna pubblicitaria per un libro molto importante Quelli che vedete sono i principali quotidiani della Sicilia Adesso la pubblicità va anche in virtù E' un libro che cambierà la prossima storia di Agrigento Guardate la copertina Ho scritto questo libro, vi è messo Perché nessuna famiglia agrigendina debba più soffrire Per la mala giustizia quello che ha sofferto la mia di famiglia Vi assicuro che riderete tanto per le rionie E piangerete un po' dalla rabbia Giudici e tragediatura Gli atti giudiziari e le grandi miate Delle inchieste su Arnone Stottone Il ruolo dell'avvocato Totò e della signora Elina Ad agosto in edicola Vi conviene prenotarlo sindone E eccoci nuovamente in studio Continuano i disagi per i commercianti della via Pirandello Per il protrarsi dei lavori della zona sulla rete idrica I lavori continuano lentamente dai primi giorni del mese di luglio Comportando tutta una serie di gravi disagi Chiara Mangione E' trascorsa una settimana esatta Da quando i commercianti della via Pirandello Hanno denunciato per la prima volta i loro disagi Dovuti al protrarsi dei lavori di manutenzione Della rete idrica Porta di Ponte Durante i quali gli operai di Girgenti Acqua Hanno individuato una rottura dopo l'altra Lavori che hanno preso avvio i primi giorni di luglio Settimane nel corso delle quali A danno degli esercenti delle attività commerciali Della via Parallela al salotto cittadino Si sarebbe abbattuta quella che loro definiscono Una tragedia commerciale che si è giunta Alla crisi economica che attanaglia il comparto I lavori hanno comportato infatti La chiusura al traffico veicolare In alcuni giorni anche pedonale Con grande documento per le vendite Così come per la possibilità di approvvigionamento Delle merci da parte dei fornitori Nonché il rischio del ritardo di soccorsi In caso di urgenza sanitaria Alcuni commercianti hanno così interessato Gli enti competenti quali Giorgenti Acqua Comune di Agrigento, Prefetture ed anche Procure della Repubblica Ma ancora non hanno ricevuto alcuna notizia Circa la durata dei lavori A loro sostegno la Fedarcom Che si unisce alla richiesta di protrarre i lavori Utilizzando pure le ore serali Per dare così una forte accelerata Sui disagi dei commercianti Di via Pirandello ha presentato questa mattina Un'interrogazione urgente Il consigliere comunale del PDL Alfonso Mirotta Mirotta unisce anche le lamentele Dei residenti della via Cesare e Battisti Dovuti allo stato della pavimentazione Definendole indecorosa e insidiosa Per la sicurezza dei pedoni Mirotta chiede di conoscere la data indicata Di fine lavori e quando realmente si concluderanno Quali la ditta e quali se previste le sanzioni per i ritardi Ma soprattutto quali sono le iniziative dell'amministrazione Per limitare i disagi ai residenti e commercianti Se esista un progetto di sistemazione della via Cesare e Battisti E in ogni caso di provvedere alla sua riqualificazione Ci spiega le ragioni della sua interrogazione Lo stesso consigliere comunale del PDL Alfonso Mirotta al nostro microfono Vediamo Oltre al disagio dei cittadini Oltre al disagio dei commercianti Stiamo parlando del salotto di Agrigento Io stamattina ho presentato l'interrogazione Inerente alla via Cesare e Battisti Alla via Pirantello Dove come si può evincere dalle vie E appunto sono il cuore e il salotto di Agrigento Una volta si parlava soltanto delle periferie Dei disagi in periferia Oggi con l'amministrazione Zambuto Questi disagi sono soprattutto in città In merito E la battaglia sull'italcementi non è finita Anzi comincia adesso E questa è la posizione della CGL di Agrigento Alla luce di un incontro tra i vertici della filea La rappresentanza sindacale dei lavoratori Dello stabilimento in pedoclino E Massimo Raso Segretario generale della CGL di Agrigento Il periodo di cassa integrazione Afferma Raso deve essere utilmente utilizzato Per costruire il futuro Dello stabilimento di Porto Empedocle Intervenendo con decisioni Su tutti i fattori che determinano Appesentimento di costi Per questo il concorso Delle istituzioni dei parlamentari E di quanti hanno espresso La loro solidarietà ai lavoratori È più utile adesso Oggi prosegue il segretario Agrigentino Comincia il vero percorso Volto alla salvaguardia del sito produttivo Di Porto Empedocle E del suo indotto La CGL conclude E chiederà a Cisleguil Di compiere una verifica comune Della situazione E di predisporre iniziative comuni A difesa della cementeria Cui chiamare la comunità Empedoclina E della provincia Una spedizione scientifica Nel canale di Sicilia Che documenta la biodiversità Dei banchi d'altomare Per proteggerli dalla minaccia Delle perforazioni offshore È il progetto di Greenpeace Realizzato a bordo della nave Astrea Grazie alla collaborazione Degli esperti dell'ISPRA Che negli scorsi giorni Ha esplorato il Banco Avventura E il Banco di Gram Isola Ferdinandea Alla scoperta di un universo Sottomarino straordinario Quello che abbiamo visto Nella nostra spedizione Conferma l'enorme ricchezza E fragilità di questi fondali Spiega Giorgia Monti Responsabile Campagna Mare di Greenpeace Ambienti incontaminati Come questi Andrebbero tutelati Come tesori preziosi E non messi a rischio Con le trivellazioni Sono quattro i progetti Inseriti nel piano triennale Delle opere pubbliche Approvato lunedì scorso Dalla giunta municipale Preseduta dal sindaco Marco Zambuto Chiara Mangione Si tratta dei progetti Esecutivi di completamento Il restauro del Museo Civico Di riqualificazione Di Piazza Pirandello Pianolena Via Santa Sofia Back Back Vicolo Teatro E Salita La Lumia Tra i progetti Approvati quattro giorni fa Non ne figurano altri Molto attesi Il motivo A detta dell'amministrazione Comunale Non sarebbe riconducibile A una loro eliminazione Piuttosto A un loro stato Più avanzato Sarebbe stata così Completata La procedura di affidamento Relativo al contratto Di quartiere secondo Di Fontanella Magione Espletata la gara d'appalto Per la riqualificazione Del tessuto viario Sarebbero inoltre Conclusi gli interventi Di manutenzione Della viabilità Di Via Unità d'Italia Di collegamento Con l'ospedale Mentre sarebbe imminente La consegna dei lavori Della pista ciclabile Di San Leone Poi c'è sempre Il progetto Terra Vecchia Di Girgenti Per la cui parte pubblica Si sta procedendo All'aggiudicazione definitiva E' eliminato Dal piano delle opere pubbliche Il progetto relativo Al completamento Della rete foniaria Nord Perché passato Alla competenza Del lato idrico A Girgenti Acque Spazio dovrebbe esserci Invece per i lavori Di riqualificazione urbana Di Via Atenea Piazza Gallo E Piazza Ravanusella Domani alle 10.30 All'hotel Di Oscuri By Palace Di San Leone L'europarlamentare Salvatore Iacolino E il presidente Dell'associazione culturale Giovane Europa Fabio Zarbo Terranno una conferenza Stamp Per illustrare I possibili sviluppi Nella residua Programmazione di spesa Dei fondi FSR 2007-2013 E sul relativo Coerente sviluppo Per quella successiva Del 2014-2020 Con particolare riferimento Ai grandi progetti E dei suoi possibili sviluppi Nelle nuove prospettive Finanziari Dell'Unione Europea Nella mattinata di oggi Il personale Del centro di recupero Di Cattolica Eraclea Ha effettuato La reintroduzione In natura Di due esemplari Di Gheppio Falchi di modeste dimensioni Che vivono nel territorio Agrigentino L'evento che si è tenuto Nella zona di Villasete È stato autorizzato Dalla ripartizione Faunistica Di Agrigento E vi hanno partecipato Numerosi curiosi Entusiasti Dell'iniziativa I volatili Erano stati consegnati Allo staff Del centro di recupero Nelle scorse settimane In cattive condizioni Di salute E grazie alle cure Del dottor Calogero Lentini Ben coadiuvato Dai suoi collaboratori Davide Lentini Agostino Burgio Si sono completamente Ristabiliti Tanto da poter tornare A volare Nelle nostre campagne Il centro di Cattolica È da qualche anno Ormai un riferimento Per tutti i colori Quali si trovano Di fronte a casi Riguardanti La salute Di animali selvatici Oltre che per i pescatori Di portistiche In mare ritrovano tartarughe marine Pescate accidentalmente Sarà presentata Domani alle 11 All'hotel De Pini La serata evento Di raccolta fondi Per il giardino Della Colimbetra In programma Il 25 agosto Da Grigento L'iniziativa Della fondazione Agire insieme Dal FA In collaborazione Con il parco Della Valle dei Templi Si propone Di sostenere Uno dei siti Naturalistici Più suggestivi Dell'area archeologica Di Grigento L'attore palermitano Paride Benessa Incantato dalla Colimbetra Allo scopo di aiutare A sostenere Questo autentico gioiello Di archeologia Agricoltura Ha accettato Di realizzare Uno spettacolo Comico Di grande successo Sale, pepe E un po' d'aceto Per un punto culinario Esercizi teatrali Per una cena Ben servita Gli spettatori Dell'evento Che si svolgerà Proprio nel giardino Della Colimbetra Prevede diversi momenti Di degustazione E visite guidate Grazie alla loro partecipazione Contribuiranno Alla raccolta fondi Lo spettacolo Riesce a valorizzare E tramandare La nostra identità Culturale La tradizione Eno-gastronomica Locale Che sono punti di forza Del piano d'azione Vision 2020 Dopo il concerto Di Bari Caparezza Vuole un altro Esploi di presenze Per regalare Al pubblico Agrigentino Tutte le emozioni Racchiuse Nella sua ultima Produzione musicale E nel suo pensiero I testi Delle sue canzoni Invitano la gente Ad usare la testa A pensare Chiedendosi sempre Il perché delle cose E a scardinare Dogimi Che rendono L'essere umano Ottuso E poco incline Alla crescita Intellettiva Caparezza Se inaugurerà Ufficialmente La nuova stagione Di concerti Dal vivo Al teatro Valle dei Templi Domani sera Sarà il primo evento Musicale Della nuova struttura Delle ex case Pantalena Il suo concerto Ad Agrigento Sarà anche L'ennesima sua Dichiarazione D'amore Nei confronti Del sud I biglietti Sono ancora disponibili Presso la biglietteria Dello sport village Incontrata Da Chimento Mosè 24 ore Su 24 E presso Il sestante In via Platone Si riunisce Domani Alle 9.30 Al municipio Di Raffadali La commissione Del premio speciale Alessio Di Giovanni Che sarà presieduta Dall'attore Nino Bellomo Che ha recentemente Compiuto 90 anni Di età E 60 Di attività Artistica La commissione Composta anche Dall'assessore Giuseppe Pedalino Dall'direttore artistico Enzo Alessi Dai giornalisti Stelio Zaccaria Daniela Spalanca E Pietro Fattori Dal musicista Angelo Spataro Da Itintoria Dal maestro Filippo Ragusa Dall'artista Raimondo Moncada Deciderà L'assegnazione Dei premi speciali Tutto pronto A Milena Per l'ottavo Raduno Bandistico Di domani In città Diversi appuntamenti In programma All'intervista Di Roma Di rometta In provincia Di Messina La banda Di Termini Merese Oltre che la banda Locale La Giuseppe Verdi Città di Milena Con il piacere Di dirigere E poi Avremo graditi Ospiti Il gruppo Folk Valdacragas E il gruppo Locale Gallo d'Oro Il programma Prevede La sfilata Delle bande Dei gruppi Alle ore 18 Per le vie principali Per il corso Di Milena Alle 19 Ci sarà Il concertone Che consiste Nell'esibizione Dell'inno Di Mameli Suonato E cantato Da tutti i gruppi Presenti E dall'inno Milena Mia Che è l'inno Appunto Della città di Milena Alle 21 Avremo I concerti Serali Che si svolgeranno In piazza Garibaldi A Milena Quindi Invitiamo Tutta la cittadinanza E tutti Coloro i quali Che vogliono A venire a Milena Domani Perché avranno Qualcosa di particolare A cui assistere Possibilmente A partecipare Magari Esibendosi anche loro Come pubblico Attraverso il ballo particolare Dello Scotis Che domani Avremo modo Di suonare O attraverso L'ascolto Di Sicilia Un brano Che i Made in Sicile Hanno ripreso Magnificamente Che noi In prima assoluta Avremo modo Attraverso Una mia Strumentazione Per banda Di presentare Al pubblico Tanti momenti Per stare In compagnia Tutti promossi Dall'amministrazione Comunale Sì Noi Per la banda musicale Abbiamo investito È un'istituzione È un'istituzione A 12 anni Che è una realtà Vera Che porta il nome Di Milena In tutto il territorio Nazionale Che svolge Un ruolo importante Nel coinvolgere Questi giovani Perché Vengono seguiti I giovani Piuttosto di stare fuori O nei bar Stanno Tre giorni A settimana Imbegnati Nello studio Che il professore Mangione Porta avanti Per noi La banda musicale È una risorsa Invito tutti Domani sera A essere a Milena Perché sarà Uno spettacolo Meraviglioso Come ha detto Il maestro Mangione È ricco Allora Veramente Venite a Milena Sarà una serata Culturale Per l'amministrazione Comunale Veramente Un segno Di orgoglio E di gratificazione Avere questa nostra realtà Che è l'Associazione Giuseppe Verde di Milena C'è tempo Fino a lunedì Per l'iscrizione Presso la Biblioteca Comunale Di Grotte Alla giuria popolare Del premio Letterario Raccalmare Leonardo Sciaccia Che si svolgerà Il 25 Il 26 Agosto Come per Le passate Edizioni A decretare Il vincitore Della 25esima edizione Saranno I membri Della giuria Di lettori Che sceglierà Tra i tre Finalisti I componenti Della giuria Dell'anno scorso Sono stati Tutti Riconfermati E potranno Già ritirare Libri Presso la Biblioteca Per consentire Alla cittadinanza Di donare Con generosità Il proprio sangue L'Adas Effettuerà Una raccolta Domani a Marina Di Palma Dalle ore 20 Alle ore 22 Tre raccolte Domenica 5 Agosto D'Aragona Davanti alla Parrocchia De Pompei Contra da Zorba Dalle ore 8 Alle ore 12 15 Annaro In piazza Garibaldi Sempre alla stessa Ore Dalle ore 19 Alle ore 22 In piazza Giovanni XXIII A Santa Elisabetta Una notizia di sport E ufficiale L'acquisto da parte Del Camerat Calcio di Roberto Magliocco Punta palermitana Classe 1978 Ex Trapani E Messina Magliocco Ha militato Anche nel Foggia Nella Nocerina In C2 E in molte squadre Di C1 Nella passata Stagione sportiva Magliocco Ha indossato Prima la maglie Dell'Akragas E nel mercato Invernale Passato tra le file Della Parmonval L'attaccante Andrà a giudicarsi Alla già competitiva Rosa A disposizione Di Mister Aprile Che ha iniziato La preparazione In vista Del campionato Con questa notizia Si conclude La nostra informazione Grazie per essere stati Con noi Vi lascio al meteo E vi auguro Un buon proseguimento Di giornata Arrivederci Ben trovati All'appuntamento Con il videometeo Al sud Cieli sereni E limpidi Pressoché ovunque Con qualche innocuo Isolato Banco nuvoloso Sull'appennino Calabro Lucano Venti deboli Per lo più settentrionali E temperature Piuttosto elevate Punte fino a 38-40 gradi Sulle pianure ioniche E siciliane Un saluto D'Andrea Falcinelli Il meteo Punto it Pesce